Quanta voglia c'è di ottenere una vittoria che andrebbe a valorizzare i tre pareggi consecutivi? La stessa voglia che c'è sempre tutte le volte, tutte le volte abbiamo questa voglia di riuscire a ottenere il massimo del risultato e quindi anche dopodomani sarà la stessa cosa. È una voglia che comunque cresce di volta in volta perché considerando che siamo ancora in credito con quello che è la posizione classifica, non è quello che è stato espresso fino adesso dal nostro gruppo, siamo in credito e quindi ci aspettiamo che prima o poi questo credito ritorni e speriamo il più presto possibile anche dopodomani. Non possiamo contare sia su Mignanelli che su Baldini per Terni e in generale come stanno gli altri ragazzi? No, tutti bene, Baldini penso che sia difficilissimo, Mignanelli è ancora in valutazione però per gli altri siamo tranquilli, abbiamo recuperato a pieno Durso, abbiamo recuperato a pieno Bianchi che settimana scorsa non erano ancora al massimo della condizione quindi siamo al meglio per affrontare questa gara. Nel caso in cui Mignanelli non dovesse farcela cosa state pensando per quella fascia? Perché Pinto ha avuto delle difficoltà nell'ultimo match col Venezia, si può adattare Cinaglia, c'è sempre l'opzione Gigliotti, ci sono alcune scelte immagino da fare lì? Ci sono alcune scelte, le valuteremo domani, quelle che hai detto te sono comunque delle alternative valide, stiamo vedendo ma anche lo stesso Pinto non è che sia una gara che possa compromettere quello che è comunque il suo impegno, la sua partecipazione e quindi adesso domani valuteremo bene il tutto e definiremo poi anche sulla fascia sinistra chi far giocare. Maldini è un giocatore fondamentale per il vostro 4-3-3 anche in fase di copertura, senza di lui andrete a confermare lo stesso modulo o state pensando a qualche variante e magari al ritorno al 4-2-3-1? Ma a prescindere dal fatto che noi comunque lavoriamo sulla nostra identità sempre e lo stiamo facendo da tempo indipendentemente dai sistemi, le alternative ci sono e le abbiamo anche con il rientro di Durso, con il fatto che Bianchi ha più possibilità di essere impiegato, quindi abbiamo diverse alternative anche su questa scelta pur magari mantenendo comunque il 4-3-3. In ottica anche del turno infrasettimanale sta pensando un po' di turnover? C'è un giocatore, Buzzegoli, che sta facendo benissimo però anche a una certa età, lo si può far riposare oppure è imprescindibile? No, assolutamente sì, infatti si sta ragionando come staff sulla distanza delle due gare, delle tre anzi direi perché poi sono tre gare in una settimana e quindi assolutamente stiamo pensando, stiamo valutando un turnover che chiaramente diventa un'esigenza nelle tre gare e adesso vediamo un attimino se già partire dopo domani oppure da martedì. Come si può decifrare una squadra con la Ternana che è capace di tutto, veramente capace di tutto? In effetti è una squadra camaleontica, diremmo, che è una squadra che è difficilmente individuabile da un punto di vista di identità e quindi al di là del fatto che l'imprevedibilità diventa la loro identità. hanno giocatori di qualità davanti, in mezzo e quindi hanno la possibilità anche di cambiare sistema più volte nella stessa gara adattandosi all'avversario che incontrano per cui questa è la Ternana che ci aspettiamo, l'abbiamo studiata e vediamo. Si aspetta una gara folle tipo quella col Venezia oppure bisognerà, come speriamo tutti, usare la testa e magari ritrovare quella solidità difensiva per poi colpire le ripartenze? Sì, noi abbiamo rivisto, abbiamo fatto con i ragazzi l'analisi della gara, poi una partita veramente folle non lo è stata, se vogliamo. Anzi è stata comunque una partita anche a corta, abbiamo preso dei gol dove eravamo in netta superiorità numerica, non è che abbiamo preso dei gol che eravamo sbilanciati oppure su ripartenze, comunque da un punto di vista tattico eravamo messi bene in campo, quindi dobbiamo proseguire come il solito, il discorso che facciamo sempre è quello di migliorare sia la nostra fase difensiva sia la nostra fase offensiva, probabilmente sul 3-2 se avessimo approfittato di due ripartenze molto importanti avremmo chiuso la partita e quindi saremmo qui a parlare di un'ottima vittoria, invece dobbiamo migliorare sui due aspetti e vedere che alcune situazioni non si ripetano.